Benvenuti a Cosa c'è da sapere, approfondimenti di attualità, cultura, economia, politica e società cura delle redazioni di Economia News e Ok Italia Parliamone. Parliamo oggi dell'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. C'è stato l'Ok del Consiglio europeo affinché l'Italia possa estendere l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i professionisti in regime forfettario e tante sono le email che da giorni e giorni arrivano a tantissimi professionisti sulle proprie caselle elettroniche da parte di provider che si occupano di offrire questi servizi di fatturazione elettronica. Tantissime sono state le richieste giunte nella nostra redazione di chiarimenti circa la data di effettivo obbligo se dal 2 gennaio come in tanti pensavano oppure si debba ancora aspettare bene possiamo chiaramente dire che bisogna aspettare perché l'entrata in vigore ci sarà presumibilmente ma pensiamo di sì entro il 2022 ma bisogna aspettare un provvedimento legislativo specifico ad hoc per disciplinare tempi e modalità. Potrebbe anche esserci qualche esomero per determinate tipologie di attività. Bene non ci resta che attendere, non ci resta che aspettare gli eventi ma per qualsiasi tipo di informazione e di approfondimento non esitate a trovare tutte le risposte di cui avete bisogno sulle pagine del nostro quotidiano economico Economia News. Arrivederci a tutti.